Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 3 km di coda per un veicolo fermo in avaria, al km 268 tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sempre verso Bologna rallentamenti per una perdita di carico tra Barberino di Mugello e Aglio. Spostandoci in FIPILI per lavori, 1 km di coda tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze e 1 km di coda tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est in direzione Livorno. Per questi lavori lo svincolo di Montelupo Fiorentino è chiuso in entrata in entrambe le direzioni e in uscita provenendo dal Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!